Agricoltura sostenibile ma è in conflitto con quello che è la necessità di terra e la necessità di alimenti. Si è sentito parlare per la prima volta di sostenibilità intensiva, ma di cosa si tratta? Si tratta di rivedere il concetto stesso di sostenibilità. La sostenibilità oggi è un concetto fondamentale legato alla scarsa disponibilità di risorse naturali e alla capacità che avremo con le nuove tecnologie, con l'innovazione, di mantenere fertile il terreno anche per le prossime generazioni. Quindi significa in sostanza riuscire a produrre di più con meno risorse, produrre di più inquinando meno. È la grande sfida della sostenibilità intensiva, cioè riuscire in sostanza con la poca terra a disposizione e mantenendo la fertilità del terreno a produrre di più. È una sfida enorme che richiede investimenti, tecnologia, ricerca, su cui spesso non prestiamo l'attenzione sufficiente. Mi auguro che in futuro il Parlamento europeo, con il nuovo ruolo che ha, potrà rimettere al centro il tema della food security, della sicurezza alimentare, intesa come sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, legandola proprio a questi nuovi concetti di sostenibilità intensiva. Grazie e buon rientro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.